Sì, certo. Dunque siamo sotto il municipio, come vedete è una giornata un po' particolare perché non avevamo mai visto la polizia locale in sciopero. Questa è una cosa che un po' ci dispiace ovviamente perché noi tra l'altro su Chioggia Azzurra, proprio qualche giorno fa una signora nei vari commenti ha detto ma su Chioggia Azzurra non troverete mai critiche verso la polizia locale. Ed è così, noi la polizia locale la sosteniamo perché, mi permetto di tu, sono stato anche consigliere comunale, e ho sempre visto che il corpo della polizia locale purtroppo non era tenuto come doveva essere tenuto. Quindi le critiche che a volte vengono dalla popolazione, a mio avviso, bisognerebbe capire meglio i problemi che ci sono. Oggi spiegaci tu cosa rappresenti, ci spieghi cosa ti rappresenti. Certo, io sono il segretario generale della Willa FPL del Veneto, ma questo lavoro l'ho fatto per tanti anni. Ho fatto 21 anni di piazza San Marco, poi ho intrapreso l'attività sindacale, ma fino al mio ultimo giorno ho sempre avuto in tasca il tesserino della polizia locale di Venezia, per cui conosco bene questo mestiere, conosco le difficoltà e conosco il valore di questo mestiere, per cui credo di poter parlare con coniezioni di causa. Chioggia è una bellissima città, la nostra piccola Venezia, chiamiamola così affettuosamente. Io credo che i cittadini di Chioggia, tutta la città di Chioggia, abbia il diritto di avere un servizio della polizia locale di eccellenza. Questo purtroppo a volte non avviene, ma non per colpa degli operatori, che sono tutte delle bravissime persone e ci mettono l'anima e fanno delle cose che vanno anche oltre quello che è il loro dovuto. Però sono gestiti malissimo, l'organizzazione è pessima. Però spiega, scusa se non ti voglio sollecitare, però uno dei problemi che più ha fatto alla fine scattare questa manifestazione? È la disparità del trattamento, l'equità, per cui se c'è da lavorare e c'è da tirarsi sulle maniche e far fatica, lo dobbiamo fare tutti, non è che lo deve fare solo una parte. Le domeniche, è vero che questo lavoro è un lavoro che si lavora anche alla domenica, però se ci sono un numero di domeniche lavorative da fare, non può essere che qualcuno sta a casa e qualcuno invece deve andare a lavorare. E questo è quello che ha permesso il comandante in questi anni e che ha peggiorato ultimamente. Non può essere che un corpo di oltre 40 persone, metà sia in ufficio e metà solo in strada. Perché cercate in tutti gli altri comuni, piccoli, grandi, medi, se troverete mai una situazione del genere. È la disorganizzazione più totale. Sono anni che andiamo avanti. Questo era un comando che ultimamente abbiamo qualche posizione di comando intermedio, quindi di sotto ufficiali come vogliamo chiamarli. Per anni qui non c'era niente, era l'unico comando dove non c'era nessuno, la catena in comando non c'era. C'è poco da fare, questa è la realtà che abbiamo vissuto quest'anno a Chioggia. Quindi praticamente in sostanza il problema di fondo che siete qua è perché una parte della polizia locale, quella che è per strada, fa i servizi anche di domenica. Mentre quelli che sono negli uffici la domenica non fanno questo. Quasi mai. Faccio conto, ci siamo dati del tuo, fai conto che chi è in ufficio lavorerà tutta l'estate, 3-4 domeniche, chi invece è in strada ne lavora 16. Per cui se invece fosse a divisione è ovvio che... Però, perdonami, ti chiedo. Allora, però mi permetto... Certo, certo, certo. Che la parte della polizia locale che sta negli uffici magari non è più adatta a fare... No, 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 qui non stiamo parlando che negli uffici è il cimitero degli elefanti, per cui chi arriva a 60 anni pieno di acciacchi viene messo in ufficio. Sono persone in strada che sono più anziane di quelle che sono in ufficio. Sono persone valide a tutti gli effetti. Credo, io non ho i dati perché ovviamente è la privacy, ma credo che sia forse una persona che ha delle limitazioni riscontrate proprio da una commissione medica. Tutti gli altri problemi di questo tipo non ce l'hanno, per cui sono persone sanissime e visto questo mestiere l'ho fatto e visto che io non sarei mai andato a lavorare in ufficio, pensare che persone che hanno 40 anni o poco più di 40 anni siano già in ufficio, beh, onestamente... Quindi il problema di fondo è questo? È la inequità. Ho sentito anche che c'è il problema dei buoni pasto. C'è anche il problema dei buoni pasto, per cui abbiamo posto il problema. C'è il terzo turno. Noi non siamo contrari al terzo turno, lo voglio ribadire con forza. Non siamo contrari al terzo turno perché una città come Chioggia ha bisogno del terzo turno della polizia locale. Però se il contratto nazionale dice che se io faccio l'attività pomeridiana e serale, prima non c'era, ecco il nuovo contratto che è stato inserito, se io lavoro il pomeriggio e continuo il servizio della sera, tu mi devi dare il buono pasto perché io abbia la possibilità di mangiare un panino. Ricordiamoci che il buono pasto sono 7 euro, quindi non stiamo parlando di andare a mangiare una bella cena di pesce. Stiamo parlando che uno possa prendersi un panino e una bottiglietta d'acqua. Senti, ma prima di arrivare a questa manifestazione, non avete provato a parlare? Certo, certo. Allora, io rappresento la Will. La Will per sua natura è un sindacato che cerca sempre di trovare le mediazioni fino alla morte. Anche dopo questo sciopero noi cercheremo ancora le mediazioni, cercheremo un'apertura di dialogo con questa amministrazione. Però se dall'altra parte trovo un muro e gomma, perché il comandante è stato un muro e gomma, quando siamo andati al prefetto si era piccato sugli specchi per trovare delle motivazioni per cui non si poteva cambiare questa organizzazione. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, il prefetto l'ha accolta, ci siamo trovati qui a Chioggia con il comandante e il personale anche dei servizi. L'accordo era che prendevo in mano la situazione io e facevo una programmazione, tenendo conto di tutto quello che era già stato fatto, quindi le ferie, riposo, senza andare a sconvolgere la vita di nessuno. L'ho fatto, ho perso due notti della mia vita, di sabato e domenica, per avere poi dall'altra parte il comandante, che dovevamo ritrovarci, abbiamo già accolto di ritrovarci, che non ci ha né chiamato, ha fatto nulla. Ha fatto il bisato, come si usa di raccioso, ha fatto il bisato, è scappato via, quindi nelle sue ferie, poi è tornato, due righette dicendo che non era compatibile. Se questa è disponibilità, è ovvio che noi a un certo punto abbiamo detto... C'è un collegamento in diretta fra due minuti. Io mi permetto di dire che, al di là delle ragioni che io, onestamente l'ho già detto pubblicamente, sostengo questi amici della parziale perché so la difficoltà che hanno. Mi invito la popolazione a avere un occhio di riguardo verso le forze dell'ordine, in particolare la polizia locale, perché sono sempre in esterna difficoltà, essere su strada non è facile, ci sono tanti problemi e vi assicuro che noi abbiamo dei poliziotti che sono veramente professionali e bravi. Non lo dico per piageria, lo dico perché lo penso. Esatto, guardate, l'ultima battuta perché poi devo collegarmi da un'altra parte in diretta. Il ruolo della polizia locale, fra i tanti, ne ha uno che è non amato della popolazione, è quello di fare le cosiddette multe, ma non è solo quella l'attività della polizia locale. Quando uno commette un'infrazione, le prendo anch'io quando le faccio. Esatto, per cui ti saluto. Grazie, grazie mille.